Allora, qualcuno mi deve spiegare cos'è questa storia con i podcast di true crime, quelli dei delitti veri, com'è che hanno così tanto successo che in cima a tutte le classifiche quando si guarda quali sono i podcast più ascoltati, non importa in quale lingua, se in italiano, inglese, francese o che altra lingua, ai primi posti ci sono sempre i podcast di gente ammazzata. La stragrande maggioranza delle volte, tra l'altro, è una donna che viene ammazzata. Io capisco che questi siano crimini irrisolti, però ci sono un paio di aspetti che mi lasciano basita. Il primo è appunto che alla fine poi si somigliano tutti. L'altro giorno stavo scorrendo i podcast più ascoltati in Italia e uno dopo l'altro ascoltavo i trailers, le anteprime dei primi podcast in classifica. E molti di questi erano di true crime, di delitti irreali. Erano così simili uno all'altro che a un certo punto sembrava quasi di ascoltare la parodia, che fosse una presa in giro, che fosse qualcosa di comico. Invece erano delle cose serissime, lo stesso tipo di voce, le stesse parole vengono usate, spesso anche i crimini sono molto simili. Ecco, la seconda cosa è che poi spesso le persone che vengono ammazzate sono delle donne, quindi si continua a parlare di crimini contro le donne. Vabbè, direte voi, se questa è la realtà, parliamo della realtà. Non lo so, c'è anche un altro elemento poi, il modo in cui spesso il presentatore del podcast si pone davanti al problema. Non lo so, a volte mi sembra che sia un po' sensazionalista, un po', io la chiamo la pornografia del dolore. Cioè, approfittare un po' della situazione e dei sentimenti altrui, come quando succede qualcosa e il giornalista di turno ti sbatte il microfono in faccia e ti chiede, ma come ci si sente ad aver perso figlio, marito, moglie, quando succede qualcosa di molto grave? Cosa vuoi che si provi? Si prova dolore, si prova tristezza, ci vuole molta fantasia. Però, naturalmente, se si continuano a fare questi podcast, se questi podcast continuano ad avere così tanto successo, evidentemente è perché c'è la richiesta, un po' come quando i giornali pubblicano immagini molto forti, sempre di incidenti o di delitti. Io sono, a me non piace guardare quelle cose lì, io sono quella che, anche quando guardo il film, se ci sono scene di sangue, quelle so che sono finte, mi metto le mani sugli occhi e non voglio vederle, figuriamoci se voglio vedere le scene di sangue reali. Non lo so, questi pensieri mi vengono e questi pensieri con voi condivido.